ThermaTile a pavimento Installare ThermaTile è facile e veloce. Lo spessore di soli 4 mm permette di sovrapporre ThermaTile ai pavimenti esistenti. Disporre gli elementi ThermaTile con il lato scaldante verso l'alto. Collegare gli elementi fra loro. Utilizzare la prolunga terminale per collegare ThermaTile alla rete elettrica. L'ultimo connettore va isolato con il tappo in gomma fornito insieme alla prolunga terminale. Collegare temporaneamente ThermaTile alla rete elettrica e verificare il funzionamento di tutti gli elementi. Eseguire una rasatura con prodotto MAPEI NivoRapid o similare arrivando a filo dei conduttori in carbonio. Asciugato il rasante, provare nuovamente il funzionamento del sistema. Procedere normalmente alla posa del pavimento. Effettuare il collegamento definitivo all'impianto elettrico. E' facile gestire ThermaTile con crono termostato o centralina elettronica. ThermaTile fornisce un confortevole calore senza l'ingombro dei termosifoni. ThermaTile a parete Disporre gli elementi con il lato scaldante verso di voi. A parete, ThermaTile può essere installato in orizzontale o in verticale. Verificare il funzionamento elettrico. Eseguire una rasatura con prodotto MAPEI NivoRapid o similare arrivando a filo dei conduttori in carbonio. Asciugato il rasante, provare nuovamente il funzionamento del sistema. Procedere normalmente alla posa del rivestimento. Effettuare il collegamento definitivo all'impianto elettrico. Con il crono termostato si ha sempre la temperatura desiderata al momento giusto.